Arriva la primavera, arrivano le giornate del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, giunte alla loro 26esima edizione, con l'apertura di mille luoghi straordinari di tutta Italia. Per quanto riguarda Pistoia, il gruppo FAI, con la collaborazione del gruppo FAI Giovani, offrirà l'opportunità speciale di visitare Palazzo di San Mercuriale. L'antichissimo e articolato complesso partecipa da più di mille anni alla vita della città di Pistoia. Nato come luogo fortificato, costituito da una torre, divenne poi un monastero di clausura. Soppresso il monastero, agli inizi del 1800, l'edificio ha subito profonde trasformazioni ed è stato poi restaurato alla fine del XX secolo, diventando sede del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pistoia. Ma ancora oggi è possibile leggere le tracce segrete del suo suggestivo passato nel percorso archeologico, attraverso gli antichi chiostri, in ciò che resta della chiesa barocca e nella cosiddetta Sala delle Virtù. Anche quest'anno come in passato il progetto a livello locale e anche nazionale è quello di offrire al pubblico la possibilità di vedere ed apprezzare degli edifici che sono o normalmente chiusi oppure anche come in questo caso con usi diversi, però rivelando a loro le qualità artistiche e storiche che altrimenti sono del tutto sconosciute. La scelta di quest'anno è, per quanto si riferisce all'apertura al pubblico per tutti, qui nel Palazzo di San Mercuriale, dove ci sono testimonianze della storia millenaria di Pistoia. A partire dalle mura della prima cerchia fino ai tesori che sono rimasti del monastero delle suore di San Mercuriale, le visite avverranno a piccoli gruppi in successione, visite guidate, guidate da volontari fai, che sono persone professionalmente competenti e che quindi potranno rivelare tutti gli aspetti storici e artistici di questo palazzo. È un evento di sensibilizzazione, di diffusione della conoscenza e di raccolta pubblico di fondi, perché si invita il pubblico a condividere le finalità del FAI offrendo un contributo per sostenere l'impegno del FAI per i suoi obblighi e impegni istituzionali. È un contributo che può essere dato sia ad ogni ingresso, con un'offerta libera suggerita a partire da 3 euro, sia, ancora meglio, con l'iscrizione.